Ciao a tutti sono Ernestina della Cortelluccio e benvenuti a una nuova puntata di Ernestina dalla fine del mondo storie di immigrazione e non solo oggi siamo qui a Radio BM e abbiamo un ospite una puntata speciale abbiamo nuovamente come ospite di questa trasmissione una donna speciale forte che ci racconterà un po di questo nuovo viaggio qui in territorio bellunese la terra dei propri origini siamo con Silvia Squagliera Silvia cara Silvia bentornata qui anche la tua associazione bellunesi nel mondo tu come stai grazie molto gentile sono molto bene sto molto bene grazie a dio e grazie per l'invito per questa intervista un piacere un piacere averti nuovamente che ti ricordo di quella intervista anni fa con il tuo caro babbo è anche un dolcissimo che inviamo un abbraccio un bacione ma tu ora sei qui ma siccome il pubblico diciamo è sempre nuovo e ti puoi presentare per i nostri ascoltatori che ci seguono in tutto il mondo su Radio BM raccontaci un po di te bene mi chiamo Silvia Squagliera e sono figlia di un immigrante italiano è nato opposto al pago io faccio degli eventi per tutti gli italiani in la mia città che si chiama San Francisco provincia di Córdoba in Argentina si chiama la fondazione Ermanados por un sentimento è in italiano sarebbe un po come tipo fratelli o gemellaggio eh sì uniti per un sentimento mi piace parla un po anche di questo che noi raccontiamo sempre qui su Ernestina dalla fine del mondo di poter mantenere vivo quel legame come anche fa l'associazione Bellunessi nel mondo di fare quel ponte no tra Belluno no la terra d'origine di tanti e poi i migranti nel mondo e parlando un po di storie di immigrazione puoi raccontare diciamo raccontare un po nuovamente come è stata quale il tuo legame composta al pago è come è andata quella storia di immigrazione che è iniziata con tuo papà mio padre è andato via di post al pago è nell'anno 1950 è arrivato in Argentina insieme al suo padre è mi è stato molto difficile all'inizio e io vengo fare le ferie o le mie vacanze qua in Italia è sempre lascio un giorno per venire qua post al pago e fare un giro e vedere la gente ancora e amici di mio padre quindi è come un po ogni anno ti permette un ritornare alle tue radici alle radici del tuo cognome della tua famiglia è quello che se non sbaglio stai facendo oggi qua no tipo sei venuta qua per quello sì sì sono venuta apposta per fare un giro e bene sono stata stamattina a post al pago e bene sono passata per la chiesa sotto passare a salutare degli amici di mio padre e sono andata alla casa dove abitava lui anche e è una cosa molto strana raccontami perché stavo per chiederti come una emozione fu una emozione molto forte e anche di là a vita un signore che è sposata con una signora del stesso cognome che mio padre no guai era probabilmente possiamo essere parenti più lontani non lo so ma è quella storia sai oggi sono stata di la e la signora esce della sua casa e me vedi io le dico buongiorno buongiorno squaiera si quai era di cominciamo a ridere si è stato molto molto ogni volta che vengo qua mi sono un incontro molto felice sono molto felice molto immagino l'emozione che anch'io provato vedendo la casa del mio bisogno quello che partito per l'argentina giustamente è noi che siamo nati cresciuti alla fine del mondo come il nostro programma ernestina della fine del mondo tornare tanti chilometri non indietro ma tornando all'interno del cuore deve essere così strano è una cosa bella nel buon senso quindi sono contenta e so che ti sei trovata anche con amici lontani come quel momento di riunione si faceva tanto tempo che non trovava degli amici è stato anche un ragazzo che parente marco che è venuto a prendermi perché ho fatto una camminata molto lunga anche per poter godermi di più il paesaggio tutto quello sentire di più quel quella quell'aria e così dopo questo ragazzo mi ha aiutato anche venuto in macchina perché faceva troppo caldo per camminare siamo d'estate dobbiamo dire oggi una giornata bellissima ma un po calda ma vedo che sei una donna sempre in gamba forte nemmeno il caldo ti può fermare e so che anche in argentina tu non hai mai trascurato né lasciato le tue radici italiane come un po la comunità italiana dove vivi tu e come come che stai lavorando collaborando con la comunità italiana dove vivi tu che san francisco in provincia di cordoba lontana quanto da buenos aires la capitale 600 chilometri più o meno ok ma un posto bellissimo e con tanti italiani si sono tanti italiani di tutta la regione no biamontese friulani veneti di tutti è bello perché ogni regione fa le sue cose anche e io ho messo queste nome fondazione emanato per un sentimento e che ci sono tutti insieme io quando faccio degli eventi faccio che tutte le la gente cante in italiano così non c'è problema dei dialetti è molto bello quello di stare tutti insieme e sentire quella cultura italiana verso la musica quello mi piace tantissimo so del tuo lavoro perché anche siamo in contatto che tu fai tanti di questi eventi perché hai voglia di fare quello diciamo tu hai il tuo lavoro la tua vita potresti non fare niente ma ti piace condividere con le persone mi piace trasmettere quello perché anche io sono vissuto qua in italia e tutto lo che ho imparato qua mi piace trasmettertelo a trasmetterlo alla gente e lo faccio tutto in forma volontaria e anche faccio la gente mi chiede solo sulla cittadinanza anche le spiego le cose che devono presentare lo che possono fare tutto quello tutto gratuito e e quando faccio delle 20 es trasmettere tutto quello io quando parlo dell'italia in la mia città mi emoziono tantissimo la gente quando mi chiede una cosa e bene comincio a che era di che che erano finiscono più no perché le do tutte le cose che anche la mia esperienza lo che lo che ho visto lo che sono vissuto qual lo che mi ha succe lo che mi è successo tutto che lo buono e anche lo non tanto buono se deve spiegarle due cose no così la gente capisce perché ti crede che vengo in italia e tutto no ci sono buone cose e altre nostre deve sapere di tutto è anche buono quello di ritornare alla terra dei suoi genitori tutto quel mi sento molto felice si vede quando parli anche avendo fatto la tua attività no per tanti anni si vede che quella volontà di condividere con gli altri immagino anche che la risposta della gente è sempre molto molto positiva molto buona ci sono stati degli eventi a cui sei particolarmente fiera tipo c'è stata qualche festa recentemente che sei contentissima di come è andata la ultima che ho fatto è stato un concerto in omaggio a Ennio Morricone che è stato il trombettista italiano nello salsa è stato un evento molto molto buono molto buono fantastico cosa ti diceva la gente quando sentiva la musica non avevano non sapevano arrivavano gli dicevano che musica è quella degno Morricone ma veramente tutta la gente si è andato via molto contenta molto felice anche di avere stato in quel concerto sì anche bello perché in tanti succede anche a noi quando forse raccontiamo storie di immigrazione come questa o anche nelle nostre rubriche eccellenze dolomitiche che forse i nostri ascoltatori ogni settimana per fortuna ci mandano messaggi mi dicono Ernestina sai che mi fai ricordare quel paesino di mio nonno quella canzone che cantava o sai che hai menzionato questa festa questa sagra e quel feedback quella risposta delle persone per noi anche per inazio e patriciano del team di Ernestina della fine del mondo è sempre molto emozionante perché tu dici guarda qualcosa che sto facendo anche lo facciamo uno come quello che ha ma è veramente ti riempie il cuore quindi ti capisco con quella sensazione quella emozione di dire guarda stiamo dando un piccolo umile contributo no anche a volte non tanto umile perché so che tu hai fatto degli eventi anche con cene con un po' quante persone diciamo ospitate più o meno di 200 persone un bel po' si è stato Silvana di Lorenzo è stato Noelia Ciccioli di Buenos Aires e si che mandiamo un saluto anche che sono bravi anche tanta gente Alessandra Ruggero anche Alessandra cara Alessandra che da Belluno ti mandiamo un abbraccio anche Noelia certamente tutti anche Paolo Martini tutti dopo è stato anche Tullio Sembo e l'avvocato questo italiano che è venuto a fare una chiacchierata anche sulla cittadinanza sì sì tutti quelle sono tanti la cordova che chiedono per cittadinanza italiana sono tanti anche a me mi arrivano anche dei messaggi di gente fuori della mia città della mia provincia l'altro non mi hanno chiamato anche della plata anche del rione si è praticamente perché come tanto non così c'è una pagina e così la gente quando vede e così io le rispondo e so che sei stai anche costruendo progettando una sede per la fondazione si è che non è poco com'è quell'avventura perché so che ti tiene impegnatissima anche non so un legame con Milano se non sbaglio sono molto contenta per quello penso che cominciaremo questo anno a fare quella costruzione e l'architetto è della mia città di San Francisco ma Fernando Cesar Mosca vive a Milano fra 36 anni che abita a Milano una bella quantità di tempo anche a Milano è notta per l'architettura per il design per la moda per tante cose quindi hai scelto bene no anche questo ragazzo abitava a 200 metri di casa mia guarda così quando l'ho chiamato gli ho detto senti vorrei fare questo lui ha in tre giorni mi ha fatto tutto no è emozionato anche lui perché dire fare un progetto di lui è la stessa città dove è nato no è molto orgoglioso anche lui di fare questo progetto anche un progetto che sa abbinare argentina italia le radici e anche penso che tu sei diciamo ho visto un po quel edificio abbastanza bello moderno ma con un tocco di classico di antico quindi sarà sì immagino una bella esperienza e ti auguriamo cara Silvia che possa essere al più presto già fatto perché so che fai tante cose che metti tanto di te del tuo tempo della tua vita della tua famiglia anche con tuo papà che so che è sempre a fianco a te lui è mai tornato qua a posto al pago no è venuto siamo venuti nell'anno 81 e dopo venuto da solo nell'anno 86 però no perché tanti ricordi che quando siamo ritornati quando 81 che siamo venuto tutta la famiglia si è trovato con tante cose che è andato via tutto distrutto è ritornato e si è trovato con degli amici i parenti li hanno guardato il letto dove lui dormiva tante emozioni che è stato molto forte tutto quello immagino ma lui lo può vedere tramite i tuoi occhi la tua opera quindi so che è contento anche già si sta rilassando un meritato riposo lì a san francisco dove anche lui ha fatto tanto per la comunità italiana la per anche per la sua famiglia voi no certamente quindi inviamo anche un caro abbraccio che è stato anche lui ospite potete cercare questa intervista che abbiamo fatto un paio d'anni fa sul sito di bellunesi nel mondo anche sul canale youtube e anche il mio personale migrante tv invitiamo a guardarlo e silvia io potrei essere ore qua ma so che altri impegni altre visite da fare perché quando arriva in questi posti la famiglia cosa fa certamente e grazie a dio dico vieni qua vieni la andiamo di qua vorrei già chiudere questa bellissima intervista che ti ringrazio per lo spazio perché sai che stai anche vai vieni vuoi inviare un messaggio per tutti i veneti bellunesi nel mondo che ci stanno ascoltando qui su radio bm cosa puoi dire un saluto molto affettuoso per tutte le persone veneti bellunesi e tutti italiani ecco speriamo poter intervistare tutti il più presto anche vedere e visitare san francisco ci ospiti possiamo andare in argentina sa che può condottare anche silvia che sarà lieta di avervi e farvi vedere un po silvia io ti ringrazio tanto grazie mille buona buon proseguimento di viaggio speriamo certamente arrivederci sia in argentina che qua al più presto grazie mille no grazie a te e a voi cari amici ascoltatori è la nostra puntata la nostra bella intervista oggi finisce qui rispettiamo settimana prossima se volete rivedere le nostre puntate e non dimenticate di cercarmi sulle reti sociali dell'associazione bellunesi nel mondo e sul canale youtube e anche le mie personali sia instagram che facebook e il mio canale youtube migranti tv vi aspettiamo è come dici il nostro moto vicino e lontani mai soli ringraziamo inazio dalla corte lucio per la musica e il montaggio e patrizia lucio alla regia